Ma io do il benvenuto a Giovanni Brambilla, responsabile degli investimenti di A come A, perché Brambilla lo vediamo, lo abbiamo visto, i mercati stanno reagendo in modo nervoso, sono giornate particolari, parlando, citava Simone, degli investitori esteri, oltre ovviamente allo scenario degli imprenditori italiani, come è vista l'Italia dall'esterno? Bruxelles si era detta preoccupata e stupita dalla nostra crisi di governo, come dobbiamo leggere questa crisi, qual è la prospettiva sul mercato anche davanti a ciò che è successo oggi, cioè ripetiamo il gas, l'annuncio che ci sia una possibile, plausibile interruzione del gas, una riduzione, un risparmio del 15% da qui alla primavera, l'ha detta Ursula von der Leyen, e l'appuntamento di domani con la BCE e l'aumento dei tassi. Qual è lo scenario? So che è una domanda da un milione di dollari. Sì, anche di più, soprattutto tocca a diversi argomenti che ovviamente tutti insieme, molto diversi tra loro, ma che creano certamente molta volatilità, oggi ovviamente la giornata è una giornata nervosa, soprattutto dopo l'interruzione che c'è stata alla Camera, direi che il primo punto è sicuramente quello relativo alla crisi di governo che rispetto a qualche ora fa prende sempre più piede e bisognerà vedere poi quale sarà la reazione, nel senso che la posizione che è stata presa dalla Lega, con un discorso abbastanza duro, se posso permettermi di esprimere anche un giudizio personale, e dalla posizione di Forza Italia ovviamente questo ha messo Draghi in una condizione abbastanza difficile, ha chiesto un governo di unità per raggiungere tutti gli obiettivi che ben sappiamo, e ovviamente il fatto di aver posto da parte della Lega e di Forza Italia delle condizioni molto stringenti, hanno, come dire, messo in una situazione difficile Draghi e oggi, adesso, in questo momento, la situazione è ferma fino alle 17 che torneranno alle Camere, speriamo che in questa orettina che ci attende riescano a trovare un po' la quadra, altrimenti lo scenario potrebbe diventare difficile, nel senso che se Draghi dà le dimissioni bisogna o trovare un governo tecnico, è molto più probabile andare a delle elezioni, e questo ovviamente, per tornare alla domanda come ci vedono all'estero, ovviamente questo non migliora assolutamente la nostra immagine, che nel governo Draghi ha sicuramente dato un contributo importante a far apparire l'Italia con un peso differente rispetto a quello che aveva in passato all'interno dell'Europa, con un ruolo sicuramente molto più da protagonista rispetto a quello che avevamo sempre avuto in passato, e ovviamente questa situazione potrebbe farci fare un passo indietro notevole. Questo potrebbe avere sui mercati delle ripercussioni importanti, al momento c'è nervosismo, ma se pensiamo ad un evento come quello catastrofico di un'eventuale elezione anticipata, il mercato ancora non si è mosso, perché quello che mi aspetto è che ci possa essere un allargamento dello spread, un ulteriore peggioramento del mercato azionario, questo bisognerà poi sposarlo con quella che sarà domani l'incontro con la BCE, quello che la BCE racconterà non tanto sul discorso tassi, dove... Esatto, esatto, abbiamo tanti appuntamenti ancora per finire questa settimana che sembra già abbastanza intensa. Allora io Brambilla torno da lei più tardi, volevo rigirare la stessa domanda a Lucio Poma, presidente di Nomisma, per poi passare l'impegno a Simone Cerroni di continuare l'intervista, ma allora Poma, cosa ne pensa? Qual è la situazione dal suo punto di vista e soprattutto per quanto riguarda la notizia del gas di oggi, le chiedo. Poma, non la sento, se gentilmente può attivare il microfono. Vediamo se riusciamo a sentirla. Eccola, eccola, la sento, forse è chiaro, eccoci, prego. Benissimo, allora non sono il presidente ma sono il capo economista di Nomisma, per correttezza. Allora, sulla situazione del gas, assolutamente Draghi e il governo italiano si è mosso benissimo e quindi sarebbe veramente un disastro se dovesse crollare il governo perché ricordiamo che hanno stretto degli accordi con l'Algeria che ci doveva fornire 3 miliardi di metri tubo di gas quest'anno, poi 6 miliardi l'anno dopo e 9. Il terzo anno addirittura l'Algeria ha aumentato subito già da quest'anno il gas, quindi sono più di 3 miliardi, ci avviciniamo a 6, ma non è solo questo, l'accordo tra Italia e Algeria anche per aiutare l'Algeria a estrarre più gas perché ha dei giacimenti in sospeso, fermi, perché ha praticamente spostato il gas della Spagna, quindi non può solo spostare il gas da un pesato dell'Europa ma deve produrre di più. Quindi l'Italia sta giocando un ruolo importantissimo. Questo ci ha permesso in parte di rallentare la nostra dipendenza dal gas della Russia e quindi questo è un punto importantissimo. Perfetto, quindi diciamo che è uno scenario che potrebbe costruirsi in chiave positiva. Allora io la ringrazio, noi ci fermiamo per un attimo, andiamo in pubblicità, torniamo a fare pochissimo. Facciamo una piccola parentesi perché domani, ricordiamo, c'è un appuntamento importante, il rialzo dei tassi della BCE, previsti dopo 11 anni, non si sta ancora a sé, siamo sui 25 punti basi, sui 50, ci sono diverse posizioni a riguardo, in una battuta lei che cosa si aspetta? Lo scenario più probabile è che siano 25 basis points, credo che alla fine sarà questo il risultato. Certo che negli ultimi giorni si è avanzata un po' anche l'ipotesi che possa esserci un rialzo più alto, che secondo me sarà più dopo l'estate, quello dei 50 basis points. Poi l'altro elemento è quello dell'anti-fragmentation tool, che è quello relativo all'aspetto legato allo spread, sul quale la mia sensazione è che anche domani ci sarà una posizione abbastanza generalista da parte della Banca Centrale Europea e quindi non mi aspetto che ci possano essere dettagli particolari per quanto riguarda questo strumento di intervento per calmierare gli spread dei diversi paesi rispetto al titolo tedesco. Giovanni Ibran Bill, responsabile investimenti di Acomea, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, buona serata.